Dalla parte opposta, Materazzi all'indietro, Buffon Non chieda la squadra di salire Palla, Buffon La palla, 1-2 con Lamm e riesce quasi sempre a trovare le soluzioni O con dei tiri o con dei cambi di campo Materazzi fa arrivare addirittura Buffon Non granché questo calcio di punizione Kella ancora, doppio rimpallo, Buffon Cannavaro lascia scorrere, c'è Buffon Ancora Buffon Si libera bene, dentro per Schneider, grande opportunità, Schneider, sul fondo Quello che non dobbiamo concedere Pronto a ringvio, Buffon Cerca il traversone per Close, Buffon con i pugni Colla Materazzi, arriva Buffon, un minuto di recupero è già in corso C'è in profondità Podoski, servito lungo, troppo, Buffon Close, recuperato da Gattuso, Close però in area di rigore, Close ancora, Buffon Qui invece la giocata prima di Close Schneider ancora, palla interna per Podoski, vuole girarsi, Buffon Poi il movimento di Podoski, a tagliare, con la nostra difesa che è rimasta molto bassa E di qui, lo vede Schneider di prima, non c'è nessuno che possa arrivare sul tarla via subito con il primo tocco Materazzi, venuto Gattuso Il retropassaggio è involontario, forse potrebbe giocare anche il pallone con le mani Buffon Ma preferisce... Sembra prendere la responsabilità Michael Ballack All'indietro il pallone per Buffon Materazzi 48 Buffon Materazzi Mertesacher è solo... Mertesacher Sei giocatori per la Germania vincolare di rigore, sei Cerca la battuta, in posizione regolare Podoski, ma arriva prima Buffon Due minuti Mertesacher È pronto a battere Schweinsteiger Gattuso C'è Kel Kel prova a dare il pallone all'interno per Podoski, in area di rigore Buffon Buffon Calcio d'angolo Straordinario Buffon, bravissimo È rimasto... Cerca Buffon direttamente Materazzi Deve ridarla ancora l'indietro a Buffon Lo attacca Podoski Buffon profondo È pronto a rinvio Gigi Buffon Si fa vedere davanti Pirlo Chiudete le valigie amici Si va a Berlino Beppe Si va a Berlino Beppe Andiamo a Berlino Qui si va a Berlino Beppe Grazie a tutti ieri